Adesso possiamo ringraziare il Signore, possono ringraziare il Signore perché con l'acqua, con i pozzi che sono stati costruiti, grazie anche ai vostri doni, ai doni di tutti quanti noi, possono lavarsi e essere puliti. E non hanno più peache. A meno dal punto di vista salute, diciamo che non soffrono più come prima. Ecco allora, quello che adesso vi chiedo, non siamo molti questa sera, fa caldo, non siamo numerosi perché ancora siamo al mare. Ecco vi chiedo il vostro contributo, io non sono più missionario quindi non lo faccio per me, il vostro contributo soprattutto per la parola di Dio, per aiutare i catechisti che sono la base delle comunità, hanno bisogno di formazione, una formazione molto profonda, per lo studio dei seminaristi, seminaristi diocesani, per le religiose che non hanno sostegno, e per, evidentemente per i cappuccini, gli studenti cappuccini, e per i missionari cappuccini che ancora stanno sul posto, ce ne sono ancora di italiani, di polacchi, di francesi, ce ne sono ancora. Hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra collaborazione, soprattutto della nostra preghiera. In anticipo io vi ringrazio, e vi ringrazio per tutto quello che avete dato nel tempo passato, io ne ho usufruito, e certamente potete essere sicuri che la preghiera dei missionari per voi non manca mai. Salutato Gesù Cristo!